voglia di fare musica qualcuno di voi magari il posto se lo ricorda perché avevo raccontato anche l'oggi della madonnina se non ve lo ricordate andate a cercare i post quindi sono tornata perché volevo anche un po' vedere come in questi anni il leggo del fio si è trasformato dopo le piene dopo quello che c'è stato un po' come calamità naturale grossi piogge temporali e devo dire la verità che sono rimasta colpita perché certi passaggi che io mi ricordavo in realtà non ci sono più quindi si è un po' modificato in alcuni punti si fa più partita ad arrivare in acqua e anche vera che adesso l'acqua è ancora molto alta molto alta, insomma, ancora alta e quindi le spiagge sono abitanti il bello è che si è immersi veramente nella natura ci sono tanti scegli anche colorati c'erano prima dei veroni quindi insomma mi fa ben sperare di poter tornare fresco ancora una volta più magari raccontargli ancora qualcosa farci un bagno insieme e che dire, niente attaporare anche quelli che sono questi luoghi in contaminato è molto caldissimo ma ormai addirittura cioè è calda l'acqua non sento neanche più fresco nei piedi e come sempre sapete che può? sì io un tuffo me lo faccio una bagnatina me la do se voi volete rimanere lì e rinforzcati con me rimaneteci che non è niente mai ma ormai addirittura dalle Allora devo dire che con questo gallo ci voleva proprio un bel bagnetto e fine, l'oscura e perfetto. Tra l'altro dopo un po' che sei in acqua non senti neanche più il fresco ma si diventa pure calda. Ma va benissimo così per queste giornate ci sta a rinfrescarsi, tra l'altro insomma vi invito anche ogni tanto a uscire dalla vostra città, andare magari nei paesi limiti, magari per fare qualche luogo non troppo accessibile ma comunque che può raccontarvi un po' il territorio. In questo caso, in questa zona c'è l'ho azi naturalistica, la madonnina e proprio ci fate anche attenzione, si vedono praticamente tanti tutti i gricelli che normalmente non si vedono perché sono anche protetti in questa volta. Perchè niente, la parte ci viene anche per fare merenda, ciò qui è il pranzo della domenica, se avete voglia di immergervi nelle acque, sono pulitissime e si fa benissimo. Ciao, io continuo il mio relax, ho trovato anche praticamente l'idromassaggio naturale per questo naposto. Ciao!